Non voi vi siete scelti, ma Dio vi ha scelti e quel giorno e in quell'ora vi ha fatto incontrare e ha messo nel cuore di ciascuno la consapevolezza di essere l'uno per l'altro. L'amore guarda chi sta accanto, perché l'amore non pensa mai a se stesso, ma l'amore principalmente si preoccupa di chi gli sta accanto, perché è la persona con la quale condivide la propria esistenza.